Chiara, con la preside, non mi dire niente, che voglio vedere da qua. Ma l'hai già vista sulla pubblicazione? Sì, ma la cosa è diversa. La cosa è già letta. Dammi l'emozio, tocca a te. Vai. Andiamo a vedere anche tu. Dove sei? Come ti chiami? Presidente. Come ti chiami? Sì, sì, io mi chiami. Non mi chiede. Esattamente, è la presentante del Consiglio d'Istituto. Grazie. Noi facciamo... Pronti? Vai. Siamo in qualità di coordinatrice della Consiglio d'Associazione. Leggi il testo che abbiamo condiviso con l'automità scolastica. E poi leggeremo l'automità di Presidi. Vai, Chiara. Anno scolastico, 1959-1960-1919. Noi facciamo un'automità scolastica.